L'estate terramana si accende con due eventi di grande richiamo organizzati dalla Ricitelli in collaborazione con Terra Monatura Indomita. Il primo appuntamento è fissato per il 26 luglio con il poliedrico Nino Frassi che la sua vende in programma in Piazza Martiri. Il secondo evento vedrà l'orchestra dell'istituzione sinfonica abruzzese come protagonista il 19 agosto in Piazza Sant'Anna. Ma in città sono numerosi gli eventi che si stanno preparando per i mesi estivi, quindi all'aperto. Un modo per rispondere anche alle criticità scaturite dalla chiusura del teatro comunale per i lavori di restyling. Stiamo studiando delle soluzioni che ovviamente non possono avere la lampezza del comunale perché al momento, fin quando non viene ristrutturato, c'è un teatro di cui la capienza a terra non c'è. Stiamo vedendo la possibilità di fare comunque concerti o piccoli spettacoli di prosa perché ovviamente la prosa, diciamo, per le scorse stagioni richiederebbe un palco vero e proprio, con le dimensioni si parla e al momento non è disponibile. Stiamo, diciamo, interfacciandoci con l'università per la possibilità di utilizzare l'aula magna, ci stiamo organizzando. Ovviamente siamo in una situazione momentaneamente in cui le cose vanno affrontate considerando quello che c'è, quello che si può fare. Comunque una sicurezza, non interrompiamo la programmazione. La riduciamo, la riduciamo a quello che c'è. L'idea dell'amministrazione comunale terramana è quella di riqualificare il parco della scienza e renderlo fruibile per spettacoli ed eventi. C'è il tema del teatro comunale, quindi avere degli spazi che possano in qualche modo nel periodo invernale accogliere degli eventi importanti, soprattutto teatrali, parliamo della stagione eccetera, è veramente complicato. Ma stiamo, proprio ieri ci siamo incontrati con ACS, Ricitelli di nuovo, con Silvio Racchio, insomma con Renato Piro Gallo, con tutti quelli che in questa città in qualche modo possono dare un contributo importante alla ristrutturazione anche di questa sala, della sala del parco della scienza ed è il percorso che stiamo seguendo. Nei prossimi giorni incontreremo ancora il progettista per avviare un percorso su questo spazio che in qualche modo possa condurre la programmazione culturale in questa fase di grandi lavori nella città di Taramo.